È un punto in trasferta, una buona prestazione, però le occasioni che abbiamo avute ne abbiamo avute diverse. Loro su errori nostri si rendevano pericolosi, quando un paio di volte Dosseno è entrato e ha sbagliato il tempo e il modo della giocata, ci sono ripartiti e ci hanno creato problemi, ci potevano fare gol, però sempre su errori nostri. L'abbiamo costruito, abbiamo giocato, iniziamo un pochino ad avere un'idea di squadra, abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, a parte gli ultimi tre minuti, secondo tempo l'abbiamo fatto anche, non abbiamo rischiato molto, però bisogna metterci qualcosina in più. Poi non ce ne dice bene nemmeno una, perché anche Mikoski che doveva giocare il giorno della partita sento un fastidio, lo teniamo fermo, deve giocare Di Gaudio perché sennò qui tutte le volte non troviamo mai la quadra. Peccato perché secondo me la squadra nel complesso come impegno e anche come gioco del primo tempo meritava qualcosina in più. Di Gaudio ha fatto la partita sull'entusiasmo, non certo su una tenuta fisica che al limite in questo momento non ha, si può solo ringraziare, però ha già fatto vedere che qualità ha. Plescia ha fatto un allenamento in mezzo, quello che ha fatto non mi è piaciuto, glielo ho già detto personalmente a lui, perché lui anche se viene sostituito, perché è sostituito Maniero, poi viene sostituito, e lui viene in panchina come fanno tutti i suoi compagni, perché se c'è una cosa in cui divento poi un po' cattivo è proprio quella che è la mancanza di rispetto verso gli altri. Allora gli altri ragazzi che si sono allenati tutta la settimana, che non hanno giocato, che dovrebbero fare. Perciò io mi auguro che sia stato dettato dal momento, ci andiamo oltre, però sono cose che a me danno molto fastidio, perché ci vuole rispetto, sia all'interno di un gruppo, perciò siamo tutti uguali, siamo tutte brave persone, però c'è un limite, c'è un limite a tutto, non si deve passare mai quel limite, almeno con me, poi. Ma lui secondo me non è nemmeno intervenuto, non so rivedendo le immagini, ma lui si è scansato, lui è andato oltre, poi vabbè. Ormai sono vecchio per vedere queste cose qui, mi viene anche da ridere, perché lasciamo perdere. Secondo me un gol era valido, tanto per essere chiari, però va bene lo stesso, noi ci pigliamo con il risultato, perché è sempre il risultato fuori casa, contro una squadra che farà bene. Abbiamo dimostrato che iniziamo a avere un'idea, che abbiamo una condizione che va sempre migliorando, perciò bisogna guardare oltre e prepararci bene per la partita di domenica. Tutto qui.